Gentili telespettatori, buona giornata. Ogni tanto a sinistra si accende qualche luce di speranza. C'è qualcuno a sinistra che ragiona in un certo modo, come anche a destra, ogni tanto c'è qualcuno che ragiona in un certo modo. Quindi non perdete la speranza che ci possa essere una politica migliore, un mondo migliore, dove crescere... Ecco come cantava Eros Ramazzotti, no? Un mondo diverso, ecco. Pina Picerno contro Elena, che si fa chiamare Ellie Schlein. Dice che il PD non è l'isola dei famosi. Allora, in politica tu arrivi ai vertici della politica se hai tanti soldi, le aziende, quindi sei una persona potente economicamente, o sei una persona influente, o sei una persona che ha una famiglia alle spalle di un certo peso. Per questo puoi arrivare in politica. Se tu sei Cippalippa, che vive in periferia, nato ai bordi di periferia, come il canta Ramazzotti, dove i tram non vanno avanti più, dove i pugni resi a nessuno, su quella roba lì, è difficile. Cioè, è la Meloni che arriva a essere capo del governo, è il sogno italiano. La Meloni, famiglia, proviene da famiglia normale, arriva piano piano in Parlamento. Però oggi vediamo che ci arrivi se puoi portare dei voti. E' per questo che Pina Picerno dice che il PD non è l'isola dei famosi. Non è che devi andare a cercarti il famoso perché poi alle urne ti votano il famoso. Perché voi sapete che o candidi il tuo amico, o candidi quello che ti può servire perché magari c'ha l'azienda, è un posto per tuo cognato, magari glielo dà. Io ti candido e tu assumi mio cognato. Oppure nepotismo, nepotismo, si candida a quello che ha lo stesso nome di quell'altro. Non faccio nomi per evitare di essere accusato di diffamazione. Però se voi guardate, magari trovate uno che dice ma quello c'ha un cognome che è uguale... Sì, è il parente. E quindi per essere candidato se sei parente hai molte più chance, certo. Se sei parente di hai molte più chance. Se sei figlio di hai molte più chance. O meglio, questo poi non significa realmente che tu... Allora, cambiamo prospettiva. Tu arrivi in Parlamento e puoi essere un ottimo politico. Però sei arrivato in Parlamento perché si sono aperte tutte le porte. Chiaro? Perché sei figlio di, parente di, amico di, conoscente di... O puoi essere utile a... Quindi quando tu fai parte di queste categorie c'hai le porte davanti aperte e c'è qualcuno che ti dice vieni, vieni avanti... Bene. Il mio vicino di casa che magari è super intelligente potrebbe essere un politico eccezionale troverà non le porte chiuse ma proprio sbarrate saldate non arriverà mai in politica poi non è detto che quello che arriva in politica perché, amico di poi non sia bravo è solo che lui ha avuto le porte aperte e l'altro ha avuto le porte saldate ecco quindi quando la Picerno dice a Schlein il PD non è l'isola dei famosi cioè è Lucia Annunziata e Cecilia Strada perché è la figlia di Strada Lucia Annunziata perché era la conduttrice famosa televisiva e poi adesso probabilmente la Schlein gli è venuto in mente di candidare la Salis perché la Salis potrebbe portare un sacco di voti dell'area narco-insurrezionalista dei centri sociali diventare astronascente ecco e così questa Pina Picerno dice ma il PD non è l'isola dei famosi cioè che facciamo facciamo eleggere i famosi facciamo l'isola dei famosi il grande fratello Vip ecco perché per i partiti l'importante è che tu sia uno o una che porti voti che porta voti sia uno o una che porta voti eh sì tra chi rischia di rimanere fuori c'è proprio questa Pina Picerno eurodeputata e vicepresidente del Parlamento Europeo pensate vicepresidente del Parlamento Europeo che poi con tutte queste celebrità e la strada e l'annunziata e la 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 che si mette come capolista forse in seconda posizione forse in terza posizione Pina Picerno che non è figlia di che non è famosa perché conduceva un programma televisivo dice è caspiterina io eurodeputata vicepresidente del Parlamento Europeo vengo passato mi passano davanti quelli dell'isola dei famosi e insomma e così lei è durissima contro la Schlein proprio giovedì 28 marzo ieri sera nel programma di La 7 di David Parenzo l'aria che tira lei dice proprio questo la questione delle liste del nostro partito è iniziata in modo un po' scomposto perché è arrivata prima sui giornali e poi negli studi televisivi e dice io credo che debba essere riportata su un piano politico e lo dico da militante del partito le discussioni si fanno nelle direzioni dove vengono avanzate delle proposte insomma dice non siamo certo l'isola dei famosi non siamo neanche in un contesto televisivo il PD si è tenuto in piedi in questi anni grazie alla forza di tutti noi militanti ritengo sia giusto ascoltare quello che pensano allora chiaramente sapete quanti quanti politici di provincia fanno i gazebo dove gli promettono tu impegnati e vedrai che un giorno arriverai in Parlamento sapete quanta gente fa i gazebo per 10 anni 20 anni 30 anni con le promesse tu farai tu diventerai ci penso io ti porto avanti io e la maggior parte di questi il 99,9% non andranno mai da nessuna parte rimarranno al gazebo del sabato pomeriggio tutta la vita perché semplicemente non sono figli di non sono famosi non fanno parte dell'isola dei famosi poi c'è qualche militante come questa Picerno che arriva addirittura a essere vicepresidente del Parlamento Europeo come la Miloni è arrivata a diventare capo del governo però in tutta la loro carriera politica sono sempre stati sorpassati da da quelli dell'isola dei famosi perché funziona così arrivederci a tutti e grazie